Il giudizio divino e la punizione dei peccatori In ogni cosa, tieni l'occhio fisso al termine finale. Tieni l'occhio, cioè, a come comparirai dinanzi al giudice supremo, al giudice che vede tutto. Non si lascia placare condoni, non accetta scuse e giudica secondo giustizia. O sciagurato e stolto peccatore, come potrai rispondere a Dio, il quale conosce tutto il male che hai fatto? Tu che tremi talvolta alla vista del solo volto addirato di un uomo. Perché non pensi a quel che avverrà di te nel giorno del giudizio, quando nessuno potrà essere scagionato e difeso da altri, e ciascuno costituirà per se stesso un peso anche troppo grave? È adesso che la tua fatica è producente. È adesso che il tuo pianto e il tuo sospiro possono piacere a Dio ed essere esauditi. È adesso che il tuo dolore può ripagare il male compiuto, e renderti puro. Un grande salutare purgatorio la colui che sa sopportare. Questi, ricevendo ingiustizie, si dispiace della cattiveria altrui più che del male patito. È pronto a pregare per quelli che lo contrastano e perdona di cuore le loro colpe. Non esita a chiedere perdono agli altri. È più incline ad aver compassione che ad adirarsi. Fa violenza sovente a se stesso e si sforza di sottoporre interamente la carne allo spirito. Stroncare ora i vizi e purgarsi ora dai peccati è miglior cosa che lasciarli da purgare in futuro. In vero, noi facciamo inganno a noi stessi amando le cose carnali contro l'ordine stabilito da Dio. Che altro divorerà quel fuoco se non i tuoi peccati? Perciò, quanto più indulgi a te stesso qua giù, seguendo la carne, tanto più duramente pagherai poi, preparando fin d'ora materiale più abbondante per quelle fiamme. Ciascuno sarà più gravemente punito in ciò in cui ebbe a peccare. Colà i pigri saranno incalzati da pungoli infuocati e i golosi saranno tormentati da grande sete e fame. Colà sui lussuriosi e sugli amanti dei piaceri saranno versati in abbondanza pece ardente e zolfo fetido e gli invidiosi per il gran dolore daranno i nurulati quali cani rabbiosi. Non ci sarà vizio che non abbia il suo speciale tormento. Colà i superbi saranno pieni di ogni smarrimento e gli avari saranno oppressi da gravissima miseria. Un'ora trascorsa Colà nella pena sarà più grave di cento anni passati qui in durissima penitenza. Nessuna tregua, Colà, nessun conforto per i dannati, mentre qua giù talora ci si stacca dalla fatica e si gode del sollievo degli amici. Devi darti da fare adesso e piangere i tuoi peccati per poter essere senza pensiero nel giorno del giudizio. In quel giorno, infatti, i giusti staranno in piena tranquillità in faccia a coloro che li oppressero e li calpestarono. Starà come giudice colui che ora si sottomette umilmente al giudizio degli uomini. In quel giorno grande speranza avranno il povero e l'umile e sarà pieno di paura il superbo. Apparirà che è stato saggio in questo mondo colui che ha saputo essere stolto e disprezzato per amore di Cristo. In quel giorno sarà cara ogni tribolazione che sia stata sofferta pazientemente e ogni iniquità chiuderà la sua bocca. L'uomo pio sarà nella gioia, mentre sarà nel dolore chi è vissuto senza fede. In quel giorno il corpo tribolato godrà più che se fosse stato nutrito di delizie. Risplenderà la veste grossolana e quella fine sarà oscurata. Una miserabile dimora sarà più ammirata che un palazzo dorato. In quel giorno una pazienza che non sia venuta mai meno gioverà più che tutta la potenza della terra. La schietta obbedienza sarà glorificata più che tutta l'astuzia del mondo. In quel giorno la pura e retta coscienza darà più gioia che la erudita dottrina. Il disprezzo delle ricchezze varrà di più che i tesori di tutti gli uomini. In quel giorno avrai maggior gioia da una fervente preghiera che da un pranzo prelibato. Trarrai più gioia dal silenzio che avrai mantenuto che da un lungo parlare. In quel giorno le opere buone varranno di più che le molte belle parole. Una vita rigorosa e una dura penitenza ti saranno più care di ogni piacere di questa terra. Impara a patire un poco adesso affinché allora tu possa essere liberato da patimenti maggiori. prova te stesso prima qua giù per sapere di che cosa sarai capace allora. Se adesso sai così poco patire come potrai sopportare i tormenti eterni? Se adesso un piccolo patimento ti rende così incapace di sopportazione come ti renderà la genna? ecco in verità non le puoi avere tutte e due queste gioie codere in questa vita e poi regnare con Cristo che ti gioverebbe se fino ad oggi tu fossi sempre vissuto tra gli onori e i piaceri e ora ti accadesse di morire improvvisamente? Tutto dunque è vanità fuorché amare il Dio e servire a Lui solo e perciò colui che ama Dio con tutto il suo cuore non ha paura né della morte né della condanna né del giudizio né dell'inferno. Un amore perfetto porta con tutta sicurezza a Dio Chi invece continua ad amare il peccato ha paura e ciò non fa meraviglia della morte e del giudizio. Se poi non hai ancora amore bastante per star lontano dal male è bene che almeno la paura dell'inferno ti trattenga. In effetti chi non tiene nel giusto conto il timore di Dio non riuscirà a mantenersi a lungo nella via del bene ma cadrà ben presto nei lacci del diavolo.